Dicevo, Mosito Leata C'è anche un piccolo movimento da parte Ma questa è falsissima Con questo regolamento questa è falsissima Eh sì, davvero strano Questa partenza della prima semifinale Comunque squalificato Sandrovian, eliminato Questa volta la partenza è valida Anichel Ashmid molto potente in batteria E in terza corsia davanti a sé Il vuoto lasciato da Sandrovian E poi il Christophe Lemaitre Che esce fuori molto ma molto veloce Intanto si è ritirato l'atleta di Bahamas Michael Mathieu, Lemaitre e Ashmid Per i due posti che valgono l'accesso al finale Lemaitre, grande sensazione 20-19, meno uno Divento contrario E Christophe Lemaitre c'è sempre Stefano È molto bravo, molto bravo Spende molta energia, l'abbiamo detto Perché la corsa però È così, lui è così Corre il 200 come corre il 100 metri Con grandi spinte falcate molto potenti Sui 200 si dovrebbe essere un po' più rotondi Per cercare di scorrere Di consumare un po' di meno Invece noi vedete che sbraccia E apre il suo compasso Che però da 1,90 m Fa dei grandi passi e viene proiettato in avanti Con spinte molto poterose È molto bravo Soprattutto Corre non si risparmia mai E anche il tuffo Per cui l'unica cosa che può fermarlo È proprio questo Questo eccessivo consumo di energie Che già lo penalizzò Stefano sperava in una buona corsia Nel tuffo può spiegare anche questo Avendo vinto la batteria La buona corsia ce l'aveva per forza Perché i vicenti van centrali Matteo si ferma Viana squalificato Per la falsa partenza Quindi qui poteva già risparmiare Perché come vincitore Avrebbe sorteggiato Questa prima semifinale Avrebbe sorteggiato comunque Una corsia centrale Secondo me ha spento Un po' meno di questa mattina Questa mattina sembrava Molto più balzato Adesso sembrava Aver inserito un pochettino Più le frequenze E sentire Però 20-19 è un bel correr Comincia ad essere Un metro Però ha corso Come diceva giustamente Stefano Ha corso fino in fondo Non ha mai Si si ha fatto anche il tuffo Si propone comunque Per una medaglia O subito sotto 20-17 A un centesimo Dal personale Dal primo